oddio mi siete struccati troppo no 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 non è possibile questa cosa la dice sempre mio fidanzato dai non è vero e i colleghi della radio scherzi a parte bentornati eccoci qui nella nostra serata di questo lunedì fresco perché si sta freschi oggi meno male siamo pure un po in silenzio evidentemente stanno tutti a letto tutti a dormire quindi oggi non abbiamo anche anche non abbiamo il rumore sera fino e ancora al piano di sopra non è sceso lui sta lì ormai ma secondo me è morto io te l'ho detto speriamo di no speriamo di no la posizione lì non avrà più se è morto poi facciamo invece tutta un'altra puntata sui film esatto chiamiamo il nostro camillacci collega legato alla criminologia ecco anche lui così signori vediamo un po alle notizie a quello che è successo ultimamente le papere agli errori abbiamo una bellissima storia che non è una fiaba da raccontarvi intanto però partiamo proprio con le papere cominciamo così va con qualche con qualche risata eccoci qui quando finalmente riesce a far perdere la testa a qualcuno ma che carino quante cose in capire questo bambino cicciopposo pensi che una volta mia madre mi racconta la storia di aspetta la storia di manuel in giro di qua la luna verso di te la madre racconta sempre che era con mio fratello piccolo piccolo in un quanti siete in famiglia quattro più il cane più il cane cinque non è un cane si chiama marzo e stavano in un negozio d'abbigliamento a un certo punto è caduto un manichino che chiaramente si è fatto a pezzi e mio fratello mamma mamma scappiamocene via hanno fatto a pezzi una signora adesso ci arrestano invece era un manichino poverino spaventato da bambini tanti tanti bambini scambiano i manichini se tu li vedi i manichini messi lì sono a volte sono anche un po' inquietanti esatto ci fanno veramente un po' in prese poi ci fanno certi assurdi i super muscolosi i negozi sportivi che sembra vabbè lasciamo stare dai su assolutamente attentamente le santo invece quando in quei negozi di taglie forti ci sono sti belli manichini cicciotti reali un po' un po' più umani mettiamola così un po' più umani un po' più veri va bene abbiamo ancora un video divertente vediamo un po' che cosa è successo quando dopo una serata ti dice ci sentiamo piccolo particolare sono passati 65 anni perché spesso vedai queste storie che racconta Maria De Filippi The Queen Mary esatto ci sono sempre questi uomini e donne che ricercano i fidanzatini le fidanzatine storie quando avevano 15 anni e nel frattempo ne hanno 80 e poi trovano non so se ci hai fatto caso Misa trovano sempre almeno 5-6 persone con quel nome e quel cognome risalente a quegli anni chissà ma poi perché andare a recuperare uno che hai conosciuto 70 anni prima e magari poi è diventato una persona orribile antipatico qualcuno dice ma forse potrei essere io neanche si ricorda è carino vabbè un po' un facebook diciamo così carambola a lunga scadenza prossima papera vediamo un po' che cosa abbiamo ecco questa mood 16 giugno 2020 che cosa è successo il 16 giugno? è il giorno dei Maya no? non mi pare mamma mia forse si ragazzi che trucco dobbiamo invitarla per le nostre lezioni di trucco facciamo un tutorial Mello Kitty mamma mia un ripudio di rosa cosa si chiamerà quel rosa? trucco Peppa Pig mamma mia rosa ansia per quanto mi riguarda rosa tra l'altro è il colore di questa stagione eh signore veramente? mamma mia in tutte le sfumature questo anno è proprio terribile cioè 2020 da cancellare sotto non uscire mamma mia ogni punto di vista anche i colori pensare che dobbiamo arrivare a dicembre ascolta Manuel è l'esperto di moda assolutamente colore pantone dell'estate 2020 in rosa? no allora no in realtà per quest'estate siamo abbastanza liberi nel senso che possiamo divertirci con tutti i colori forti ah è vero ne avevamo parlato il verde brillante il rosso il rosa shocking poi i colori pastelli e allora basta l'abbiamo tutto l'unica cosa che non è messa per quest'estate è il nero perché a quanto pare sarà invece il colore predominante della prossima del prossimo autunno-inverno insomma già le previsioni per l'autunno-inverno sono meravigliose visto quello che succede oppure nero ecco all'allegria allegria portami via per la prossima autunno-inverno collezione di pigiami e tutte no speriamo di no prossima papera marroni cioè nero e marrone è tosta che ne so tutti ne parlano prossima papera vediamo un po' ecco qui quando in discoteca ti guardate a lungo ma subito dopo lui si bacia con un'altra ecco va beh è capitato a te? no devo dire devo dire di no quella roba niente vabbè comunque devo dire di no meglio la palla che lui meglio lui sicuramente era anche un bel ragazzetto ecco va beh abbiamo amanti ne abbiamo ancora una ne abbiamo un'altra sicura erano quattro se non ricordo male questa era la quarta questa era la quarta l'abbiamo vista tutte siamo sicuri? è vero regia? vabbè le ho persa una questa era la quinta papera allora no no è giusto hai ragione vabbè me ne ho persa una veniamo adesso invece alle notizie le notizie perché mi sono successe di belle siamo sicuri? sono belle sono belle meno belle in particolare durante il lockdown quindi è una notizia abbiamo due notizie della quarantena che cosa è successo? partiamo subito con la prima fermato per i capelli troppo in ordine era appena stato dal barbiere no vabbè dai che cosa è successo durante il lockdown ma in effetti anch'io me ne ero accorto perché c'erano tanti ragazzi adesso sai come che succede che con le donne bene o male è più semplice no? perché con i capelli lunghi qualche messa in piega siamo anche più in grado di fare siamo anche più in grado invece per noi maschietti è più difficile perché con i capelli corti sono ancora più difficili da gestire è vero è vero a me pure è successo ogni tanto andare al supermercato e trovare tutte queste belle sfumature allora lì o sei fidanzato non so con un barbershop con un barbiere con una barrucchiera ecco o tu sei un'auto ma insomma è un po' difficile fare quelle sfumature oppure fai come questo questo tizio di che cosa è successo siamo a Rovelasca provincia di Como è scattata la multa per un parrucchiere perché un ragazzo era stato durante il lockdown a farsi i capelli da questo da questo parrucchiere il barbiere lo vediamo la notizia del 17 aprile ed è stato pizzicato ed è stato pizzicato dai carabinieri perché si sono si sono insospettiti e quindi capelli troppo in ordine troppo curati troppo troppo fatti bene quindi 280 euro di multa ciascuno perché per l'airstylist che aveva deciso di lavorare in barba è il caso proprio alle chiusure che poi noi ci restiamo in Lombardia poi magari è tra la zona praticamente rosso scarlatta ci restano sempre sai quei capellini delle orecchie in giro per cui insomma vabbè è giusto così ci sta ci sta assolutamente sì andiamo avanti che cos'hai ancora siamo sempre in tema lockdown indovinate un po' che cosa è successo è stato girato un video arda in strada in tre e non solo nel frattempo insultavano anche la municipale anche questo qui siamo nel 31 marzo è successo sempre durante il lockdown ci sono divertite a girare video hard tra Rimini e provincia per poi metterli in rete anche la Romagna le forze dell'odine anche in Romagna in tutte le zone bella bella calla ecco la piadina sì che cosa è successo in faccia ve la do la piadina mannaggia la miseria in faccia la piadina ve la diamo in faccia ti piace la piadina romagnola a me da morire certo che mi piace stai scherzando è buona dai che non abbiamo cenato appunto che cosa è successo che hanno fatto un video e l'hanno messo chiaramente sul web e poi hanno ricevuto tanti commenti tanti like e quindi hanno deciso di fare una sorta di serie questi film programmatoriali finivano sul web i tre avrebbero girato una scena di sesso orale davanti al comando della municipale con tanto di sottofondo e insulti alle forze dell'ordine fenomeni ecco tra l'altro appunto il loro divertimento però è finito dopo un'indagine lampo della polizia stradale di Rimini che li ha chiaramente individuati le indagini lampo erano lì davanti sono usciti e li hanno trovati è stato un attimo proprio questo grazie alla segnalazione di Rimini Today gli inquirenti della stradale sono risaliti tra l'altro all'auto dei ragazzi una mini rossa perché ti ripeto ne hanno girato più di qualcuno e a finire nei guai sono un uomo di 38 anni e due ragazze di 22 e 21 anni che saranno ormai che saranno ormai delle celebrities una di Frosinone e l'altra di Palermo fuori regione tra l'altro fuori regione come se non bastasse hanno fatto finta di cadere dalle nubi chiaramente ma non solo il padre del ragazzo poi del ragazzo 38 anni insomma è pure bello cresciuto è successo che gli inquirenti sono andati a casa di questo ragazzo che vive con il padre il padre gli ha preso un colpo però ha detto ho un figlio scemo lo volevo buttare fuori di casa giustamente a 38 anni è ancora a casa è appunto forse è il caso è successo che questi questi video come dicevo prima hanno ricevuto un discreto successo per cui sono stati incoraggiati a fare sempre di più a fare sempre di più e hanno fatto a quanto pare almeno 6-7 scene di video tutto questo durante il lockdown sono stati denunciati per altoscene in luogo pubblico oltraggio pubblico hanno fatto la compilation di denunce difamazione a mezzo stampa oltre al lungo verbale per violazione commessa dal codice della strada perché qualche video è stato girato anche in auto un po' lo famo strano eh sì ho capito hanno fatto la compilation di multa adesso voglio vedere come le pagano e come ne escono fuori da tutta questa vicenda antichi ragazzi non è più di moda li ha montanato no? basta ecco a proposito invece di cose che si fanno in macchina comunque hai delle belle notiziette tu oggi i nostri autori sono stati bravi vediamo un po' e si sono vendicati e gli ho detto di vendicarmi ecco appunto io non faccio niente prossima notizia ancora in auto fotografa la canna con i carabinieri fermi al semaforo ma l'altro lato finisce male che cosa è successo? cosa è successo? questa tizia questo ragazzo scusatemi era in macchina sapete che adesso si fotografa tutto non resistiamo dobbiamo postare dobbiamo fare le storie dobbiamo condividere e ci sono in tanti ragazzi che io vedo che si fanno le fotografie con le canne io veramente non lo capisco c'è un'autodenuncia proprio non so cretini evidentemente sì probabile cosa è successo? questo ragazzo stava in macchina e si è fatto un selfie una foto mentre si faceva la sua canna dietro no davanti c'erano c'erano i carabinieri che dallo specchietto retrovisore l'hanno usato lui però poteva anche si poteva anche una sigaretta il tabacco esatto invece no evidentemente si saranno insospettiti come si dice io non fumo quindi non lo so come si dice stava girando il tabacco stava costruendo una sigaretta con il tabacco sfuso quelle brutte sigarette che si fanno la tre ore che sporcano tutto ovunque stanno là sempre a accendere sigarette una noia come i nostri colleghi io dico vedete fumare una sigaretta quantomeno a sto punto fumatevela bene se è proprio vabbè dai dai lasciate perdere un ragazzo di 22 anni con precedente è stato denunciato ah perché poi non solo perché l'hanno trovato con 1,2 grammi di cocaina e 0,5 grammi di chetanina oltre oltre ad un bilancino di precisione usate proprio quelli usati dei puncini è un fenomeno ma come sono questi bilancini me lo sono sempre chiesto sarà una bilancia piccola la bilancia è proprio forse è tecnologica tecnologicamente avanzata chi lo sa sono curioso è un bilancino di precisione sono curioso esiste google vai a vedere infatti dopo la cerchiamo dopo vada a dormire appunto signori prossima notizia ancora più piccante ecco questa non era piccante era un pazzo che si era quella non è una suora in un convento arriva la polizia arrestata una donna che cosa è successo che una donna di 47 anni di acquiterme era riuscita a farsi ospitare da diverso tempo in diverse strutture religiose in Lombardia e in Piemonte ma in realtà era una latità ma questa è come la storia del film con la Wubi Goldberg sister act sister act è vero? però lì era stata messa volutamente perché andava in pesa e forse aveva preso ispirazione da questo dal film ballava cantava il coro chissà è condannata a due anni e quattro mesi per truffo e altri reati che cosa fa? invece di in carcere chiaramente non ci voleva andare allora fugge e si spaccia per suora questa donna appunto di Aquitermo in provincia di Alessandria Alessandria da tempo si era resa latitante e se ne andava in giro per strutture religiose a farsi ospitare alla fine è stata scovata però se ci pensi cioè va in galera va in convento eh ma non è detto perché in convento fanno un sacco di cose mi sa non ti credere va in clausura pure là pure là io una volta sono andato le storie di Manuel sono andato a Magliano Sardina ma guarda veramente un'esperienza bellissima a conoscere le suore redentoriste suore di clausura che tu dici staranno là tutte chiuse buone buone invece suore festa festa più o meno allora suore vestite di rosso ma che dici ti giuro con gli abiti rossi gli abiti rossi e Manuel scusate quello era il set di I Swash Up non era un convento ti stai sbagliando allora suore vestite di rosso e scarpe bianche mi ricordo c'erano due quegli stivali bianchi gli stivali bianchi ma che roba brutta ti giuro cioè bassi però bianchi ma brutta poi c'era tra noi c'era un tavolo cioè gliel'hai detto di inverno gli stivali bianchi no allora gli stivali bianchi non stanno bene a nessuno esatto diciamocelo chiaro a meno che non volete dare altri messaggi che comunque noi non giudichiamo però sulle suore erano carini vabbè posso andare avanti Rache alla regia con le notizie c'era un tavolo che ci faceva da da clausura diciamo così da separatore esatto con le chitarre che cantavano poi dopodiché noi siamo usciti e loro ci hanno preparato il pranzo poi noi siamo tornati e abbiamo mangiato tutto fatto da loro fanno dei panzerotti buonissimi fanno dei biscotti buonissimi è un bed and breakfast aspetta aspetta perché fanno tutto essendo sole di clausura si fanno tutte da solo da sole attento che potresti incappare in errori in lapsus a quest'ora della notte ogni tanto escono ogni tanto escono perché gli servono le cose andranno dal medico magari perché che hanno fatto sono andata al bagno e c'erano questi bagni piccolini fatti da loro fatti da loro perché loro sono pure elettriciste murato tutto fanno tutto da sole a maggior ragione ti dico che la tipa lavorano a maggior ragione ti dico la tipa che si è andata a chiudere in convento l'hanno fatta lavorare quindi secondo me lasciatela in convento invece di portarla in carcere sono andate in un negozio di ceramica e hanno detto voi avete le mattonelle in esposizione che poi queste qui per l'indoluzione sono da buttare ce le regalate e se le hanno fatte regalare e quindi vai al bagno furbone le scuole vai al bagno dove ci sono tutte queste mattonelle assurde coloratissime è carina adesso provo anch'io devo rifare il bagno vedi ci provo vado lì se le buttate faccio un bagno poi te le scegli insomma le componi un puzzle potrebbe essere una bella idea comunque tocca a me basta adesso le mie notizie andiamo in Irlanda che cosa sta succedendo ovviamente anche in Irlanda si sta piano piano cercando di uscire dal lockdown riaprono i pub come vedete clienti scatenati hanno bevuto 42 pinte in un'ora e 45 minuti ovviamente non le ha bevute un solo cliente ma l'impresa è comunque passateci il termine da Guinness 42 pinte di birra bevute in un'ora e 45 minuti per un totale di 189 euro spesi al bancone solo per placare la sete come se la birra a casa non l'avessero bevuta nel frattempo non la trovano tant'è questo è successo lo racconta il sito Dublin Live che fa vedere anche uno scontrino che documenta un'altra impresa notevole in questo caso 31 pinte di Heineken bevute nello stesso lasto di tempo per un conto sempre che si aggira sui 180 e passa euro no a me non piace devo dire la birra non la bevo nemmeno però lì è proprio uno status symbol se vogliamo rimaniamo all'estero con una notizia che è particolarmente attuale in periodo di proteste Black Lives Matter eccetera in questo caso è una storia di rivincita perché eccolo qui un attore afroamericano si chiama Robert Hartwell ha comprato una casa costruita 200 anni fa da schiavi afroamericani quando la casa venne costruita nel 1820 la schiavitù in Massachusetts dove si trova appunto questo Massachusetts con un sacco di essi dove si trova l'edificio era ancora legale come sappiamo ora l'attore afroamericano ha voluto imprimere in qualche modo una svolta una rivincita generazionale riacquistando questa casa quello che ha detto a commento della vicenda è stato mi piacerebbe aver potuto dire ai miei antenati quando si spaccavano la schiena nel 1820 per costruire questo edificio che 200 anni più tardi un uomo nero gay e libero ne sarebbe entrato in possesso e l'avrebbe riempito di amore questo quanto ha scritto sul suo profilo su Instagram questa è una storia non è una fiaba è una bella storia vero? vero è una storia vera non è una fiaba ma è una storia assolutamente ho anticipato la rubrica una bella storia di rivincita personale e non solo direi un po' a largo raggio esatto ti è piaciuta? gli autori sono stati più bravi con me questa settimana nel senso che poi alla fine di che parliamo? di diritti fondamentali eh già lo diciamo sempre però poi è questo che un po' mi dispiace che ci sono delle notizie che fanno scartore cavolo cioè parliamo veramente dei diritti fondamentali siamo nel 2020? qualcuno se lo dovrebbe ricordare ci stupiamo certe volte no? festeggiamo per i diritti sul lavoro per i diritti sulle donne per i diritti sugli omosessuali per gli anziani e io dico per gli animali per tutto dovrebbe essere per tutto no? quando io ad esempio sento queste battaglie la violenza sulle donne la violenza sugli anziani la violenza sui bambini di razza di quello che vi pare di orientamento sessuale perché basterebbe la violenza non si fa a nessuno punto o no? assolutamente sì dobbiamo fare tutte queste battaglie specificate settore per settore no che poi creano divisioni che in realtà non dovrebbero esistere esatto che poi appena dici no allora sta a pensare i cani e qua si sta a chi si muore vabbè lasciamo stare polemica 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 sei buono sei buono notizia carina una notizia carina torniamo in Italia bravo andiamo a Narni senti che cosa è successo a Narni hanno dato il via ad una petizione per intitolare una via della cittadina a un eroe eccolo qua Gigrobo campione della difesa della razza umana in questo caso Gigrobo d'acciaio questa è una petizione che ha attirato anche l'attenzione della prima pagina nel Corriere della Sera di tanti quotidiani nazionali la proposta è stata fatta dal DETA il Dipartimento Europeo tutela androidi anche loro hanno bisogno di essere tutelati proprio per intitolare una via Gigrobo il campione della lotta per la difesa della razza umana creata dal maestro Gonagai una prima europea che spetterebbe a Narni in provincia di Terni a proposito di questo appello si sono schierate anche numerose imprese associazioni figure preminenti del tessuto cittadino personaggi dello spettacolo tra cui il comitato organizzativo del festival Narni Comics and Games a Club Terni il grande David Zed ed il famoso gruppo musicale The Rockets quindi vedremo se tra poco a Narni arriverà la strada intitolata Gigrobot oppure dove abiti io abito all'incrocio tra Via Gigrobo e Piazza Mazinga guarda sarebbe bellissimo ti piace potrebbe essere insomma ognuno è il proprio personaggio e il cartone animato andiamo avanti con una notizia che stai combinando oggi non trovi pace una notizia curiosa una piccolo incidente che è capitato a un cittadino tedesco in questo caso si parla di poca praticità con la tecnologia e con lo shopping online siamo tutti diventati dei grandissimi esperti di shopping online nel periodo del lockdown evidentemente questo tedesco un pochino meno perché voleva fare l'ordine di un'auto una Tesla per cambiare la sua vecchia Ford Kuga voleva passare all'auto elettrica che cosa ha fatto per risparmiare ha fatto la prenotazione sul sito ufficiale attivando l'opzione acquisto guidato dopo aver schiacciato il bottone conferma l'acquisto in attesa di conferma sapete quando la rotellina gira ti appare la scritta non chiudere il browser lui ha continuato a cliccare con quel dito quindi quante erano comprate? 27 no 27 27 gli è arrivato un conto da 1,4 milioni di euro si ovviamente ha chiamato l'azienda aspetta l'azienda intanto gli ha mandato un miglietto all'inizio dicendo grazie grazie cavolo pensando che magari potesse essere un grande imprenditore che appunto faceva un investimento tutto lo stesso modello tutto lo stesso identico modello non si fanno differenze tra i dipendenti e do l'auto aziendale ovviamente no quindi lui ha spiegato l'errore sono stati molto carini hanno annullato l'ordine gliel'hanno fatto uno solo preacquisto tranquillo e sereno attenzione quel ditino io ve lo taglio quel ditino se c'è la rotellina e vi dice aspettate se no fate i danni e non è che sono tutti carini come la Tesla poi magari vi arrivano 15 forni a microonde a casa e poi li dovete anche pagare e poi soffari i vostri e poi soffari i vostri e a proposito di shopping online a proposito di shopping online vediamo ad una storia che non è una fiaba che ha a che fare con lo shopping online è la storia di Federico Marchetti che avrete conosciuto sentite parlare in questi giorni perché ormai dal primo luglio è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Giorgio Armani ma chi è? Federico Marchetti un po' perché in Giorgio Armani c'entri solamente se hai Armani nelle vene o sul cognome un po' perché per la storia di questo personaggio chi è? 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 eccolo qui sorriso simpatico faccia da bravo ragazzo da bravo ragazzo sembra un po' faccio figlio di un capo magazziniere della Fiat di una telefonista della SIP ha fatto tutto da solo che cosa ha fatto? innanzitutto mi piace molto una frase che lui dice di sua madre dice mia madre è la regina dell'efficienza mi ha insegnato a fare tutto se avesse studiato oggi sarebbe l'amministratore delegato della Fiat così racconta parte dalla provincia di Ravenna e ad un certo punto decide di unire le sue più grandi passioni quella per l'internet e quella per la moda aveva 30 anni aveva un lavoro sicuro in un'azienda prestigiosa quindi con tutti i suoi benefit poteva stare a fare la sua vita tranquilla a un certo punto però nel 1939 decide di 39 no? sì esatto nel 1999 decide di buttare giù questo progetto che tutti conosciamo Yox che cosa ha fatto che cosa ha fatto sembrava un'assurdità quella di vincere diciamo così di vendere di vendere abbigliamento online e invece si è buttato e ce l'ha fatto tanto che oggi quella che era una start-up è divenuta un vero e proprio colosso è un colosso dello shopping online mondiale vende in tutto il mondo e vende capi firmati capi firmati 4,2 milioni di clienti presenti in 180 paesi oltre 5 mila dipendenti e 2,5 miliardi di dollari di fatturato questo secondo il 2016 oggi è quindi una bella persona una persona made in Italy mi piace dire a me giovane che senza soldi ma con tanta voglia di fare idee, progetti si è rimboccata le mani che è andata lì e ce l'ha fatta e oggi entra in un gruppo molto importante che è quello di Armani e tra l'altro vorrei sottolineare perché durante il lockdown Giorgio Armani è stata una persona che si è resta disponibile ha prodotto camici ha prodotto camici per destinati a medici medici, infermiere mascherine e poi ha anche donato 2 milioni di euro a ospedali e protezione civile tra l'altro ha fatto un incontro no? ecco insomma una scelta scusami se ti interrompo molto molto importante Armani proprio ultimamente perché ha deciso a tutela dell'ambiente di rallentare la produzione esatto per cui di dire addio al fast fashion le collezioni che escono ogni due settimane per tornare a quelle collezioni standard per le stagioni evitare così la sovrapproduzione di capi di cui nessuno ha bisogno lo spreco eccetera eccetera quindi una direzione molto precisa e Federico Marchetti è l'esempio invece di una di una persona che ha un trattamento nei confronti dei propri dipendenti esemplare ha sempre delle parole molto molto belle per i propri dipendenti e Yux è una tra le aziende più ambite proprio da chi desidera insomma trovare un ambiente di lavoro che ti dia possibilità opportunità felice un po' nella moda sono in tanti penso anche Brunello Cucinelli l'usia spagnola di cui abbiamo parlato esatto insomma imprenditori illuminati che poi si trovano sempre alle classifiche ai primi posti delle classifiche come i più amati dai propri dipendenti insomma una cosa importante con questa bella storia che non è una fiaba non è una fiaba noi ci salutiamo eh già siamo arrivati al termine della puntata vediamo la buonanotte vi diamo un abbraccio e vi diamo il bacio della buonanotte salutiamo come nonna Bezzi visto che ne abbiamo parlato va bene noi ci vediamo domani ore 18 e 30 35 con verso sera da Manuel Bartolini e Misa Urbano una buonanotte ciao a tutti ciao a tutti